Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza, insisti anche se tutti aspettano che tu desista, fai in modo che invece di compassione ti portino rispetto, quando non puoi più correre cammina veloce, quando non puoi più camminare veloce cammina, quando non puoi più camminare usa il bastone, però non trattenerti mai.